Questo è stato l'ultimo ringraziamento da fare al governo Monti, a Fornero e tutto quanto riguarda quella riforma pensionistica. Ricordiamoci che eravamo sull'orlo del crack, a quella paratroica tipo Grecia. Guardi, qui non è questione di orlo del crack, è questione di avere semplicemente spalmato sui cittadini la mancanza di scelte da parte del governo. Perché quello che doveva corrispondere era anche un taglio della spesa, che non c'è stato in proporzione. Cioè, quei risparmi oggi non sono stati compensati dall'ulteriore taglio della spesa. In questi anni, quando siamo andati... Abbiamo pazienza, ma Cottarelli ha fatto un piano che non è stato attuato. Ma scusi, ma scusi, ma scusi, ma siamo andati in Europa e eravamo fuori, quasi come la Grecia, e c'era un governo che si chiamava Berlusconi e... Ma lasci perdere, io sto parlando del governo Monti. Voi avete sostenuto il governo Monti, mica noi. Avete fatto voi la scelta della Fornero, del governo Berlusconi di 4 anni. Guardi che gli esodati non li abbiamo creati noi con il nostro governo, l'avete fatto voi.